Il clima è fortemente continentale, ciò significa che abbiamo 40 gradi sopra lo zero in estate e 42 gradi sotto lo zero in inverno. L'impresa agricola Rodina, fra l'altro, si occupa della selezione di sementi. Gestiamo 62.000 ettari, sui quali coltiviamo cereali e foraggio per le vacche. Qui il periodo vegetativo è molto breve, dura approssimativamente da 80 a 100 giorni. La nostra flotta è composta da 136 veicoli. Per quanto riguarda la tecnologia tedesca, possediamo 32 Mietitrebie Class e 7 Xerion Class. Sì, è un'azienda molto grande. Abbiamo scelto le macchine Class perché sono molto facili da utilizzare, sono affidabili e di ottima qualità. Qui da noi i trattori Class lavorano tutto l'anno. In primavera sono indispensabili per la semina, durante la raccolta li utilizziamo per il trasporto dei cereali e dopo le coltivazioni autunnali sono in azione per la pulizia delle strade con le pale spazzaneve agganciate. Oltre a ciò, servono all'aratura della neve. Sono all'opera praticamente tutto l'anno. L'aratura della neve serve alla ritenzione dell'acqua, poiché specialmente nel periodo vegetativo abbiamo scarse riserve di acqua. Lo scorso anno, ad esempio, abbiamo avuto 193 mm di pioggia e una raccolta di una tonnellata e mezzo per ettaro. Il problema sono i venti della steppa, che senza questo espediente soffiarebbero via la neve. Invece, noi ariamo la neve trasversalmente alla direzione del vento, formando delle andane. L'acqua di disgelo delle andane di neve serve come base per la semina, per favorire il processo di germinazione dei cereali. Nella nostra azienda ci sono 3.500 capi di bestiame, di cui 1.500 vacche da latte. Il resto sono animali giovani. La maggior parte del foraggio, tipo fieno, insilato di mais e di erba, lo produciamo noi. Mediamente le nostre vacche producono 8.000 litri di latte all'anno, che noi lavoriamo nella latteria di nostra proprietà. In futuro speriamo di ottenere risultati ancora migliori. Stiamo lavorando in questa direzione. Nella nostra officina ripariamo da soli tutto ciò che è nostro. Principalmente si tratta di lavori di tornitura, fresatura e saldatura. Chi ricambi ce li fornisce il concessionario Citi Agro Class, con il quale collaboriamo senza problemi. A Rodino viviamo e lavoriamo tutti insieme. È come in una grande famiglia. Il lavoro e la vita di tutti i giorni sono strettamente collegati. Ci capiamo reciprocamente, facciamo tutto insieme e cooperiamo con lo Stato. Sono davvero molto felice di occuparmi dell'ambito sociale. È la mia vita, il mio lavoro. Un lavoro eccellente per me è quando tutte le tecnologie vengono applicate per lavorare in armonia. Quando tutta la tecnologia è in azione e tutto funziona alla perfezione. A noi c'è un'atmosfera autentica e cordiale. È così quando in famiglia, nella vita e nel lavoro le cose funzionano. Per me un lavoro eccellente è la comprensione reciproca e la responsabilità. Quando tutti perseguono lo stesso obiettivo e uniscono i loro spazi.